Il mio sogno, diceva Don Tonino Bello, è portare il sorriso, il coraggio e la speranza a tutti coloro che incontro. Un grande sogno, quello dell'indimenticato Vescovo di Molfetta, molto difficile da realizzare, ma per lui una missione nella vita terrena, un grande messaggio ancora oggi, a vent'anni dalla sua morte. Nella scuola Medeo d'Aosta di Bari, in un incontro organizzato dall'Associazione Europea degli Insegnanti, ricordi e testimonianze sono serviti a raccontare la vita e l'insegnamento di Don Tonino, l'amico dei poveri, il difensore degli ultimi. A ricordarlo il preside della Ede, Marco Pesola, il giornalista Enzo IV, ma soprattutto Guglielmo Minervini, assessore regionale alle politiche giovanili, già sindaco di Molfetta e da anni attivista di Pax Christi, di cui Don Tonino fu importante guida. L'estortazione di Don Tonino Bello ai giovani non conosceva tentennamenti, ricorda Minervini. Ragazzi diceva, non abbiate paura di guardare in alto e di sognare, ma soprattutto, ricorda Minervini, a colpire di più era il suo sguardo amorevole e avvolgente nei confronti di chi aveva bisogno di tutto. Don Tonino, un angelo con un'ala soltanto, pochi giorni prima della sua morte aveva preso la parola al termine di una celebrazione. Era il suo congedo per lanciare ancora una volta un messaggio di speranza, aggiunge Minervini, pace e mangiare il proprio pane con i fratelli a tavola. Sono passati vent'anni eppure Don Tonino Bello riesce a realizzare il sogno di portare il sorriso, il coraggio e la speranza ancora oggi per la Chiesa, i volontari, i laici, i costruttori di pace.